Il coro di Senza Si presenta al coro con un brano del compositore inglese Thomas Thales Compositore del periodo rinascimentale, vissuto nel 1500 e autore di molti pezzi sacri Il brano è tratto da Vangelo secondo San Giovanni, capitolo 14, versetti 15-17 If you love me Grazie 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 Grazie. 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 Di Nicolai Chiedrov, compositore russo di musica sacra, nato a San Pietroburgo nel 1881 e morto nel 1940, Ochenash, Padre Nostro dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 6, versetti 9 e 13. Forse la sua composizione più nota è maggiormente diffusa, punto fermo di molti ori della Chiesa ortodossa. Grazie. 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 i morti che muoiono nel Signore da ora in poi. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro pratiche e le loro opere li seguiranno. Dal libro dell'Apocalisse, capitolo 14, versetto 13. Beati i morti di Felix Mendelssohn-Bartudi, compositore tedesco del 1800. Con questo brano al coro di Saint-Main-Saint vi ringrazio per l'accoglienza e porgio a tutti voi l'augurio di una felice serata. Grazie. 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 Grazie.